Tutto nasce da una necessità, accogliere cani abbandonati e da un'idea, offrire una seconda opportunità migliore ad animali in difficoltà. Questo sentimento condiviso ci ha unito e ha fatto di noi una squadra motivata e competente. Diamo rifugio, ma soprattutto una casa. Diamo cure e amore. Rieduchiamo. Offriamo ai nostri ospiti l'opportunità di un nuovo percorso di vita. Aiutiamo i cani e gli animali maltrattati in difficoltà, non rispettati, facendo un grande lavoro di squadra. Abbiamo dato una seconda opportunità anche a questa storica cascina del Settecento. L'abbiamo recuperata in modo sostenibile e innovativo. Ogni angolo, ogni dettaglio esprime un'atmosfera di casa e offre soluzioni abitative adeguate alle diverse esigenze degli ospiti. Ogni casetta è stata progettata innanzitutto con materiali estremamente ecologici e poi abbiamo pensato a un progetto di riscaldamento e raffrescamento attraverso un pozzo geotermico. Questo garantisce ovviamente una frescura estiva e un riscaldamento eccellente nei periodi più freddi. Tutte le casette sono studiate per facilitare la sanificazione quotidiana degli spazi interni. Il nostro impegno si concentra soprattutto sui casi più complessi, che necessitano di attenzioni particolari. Virgin soffre di una infiammazione cronica dell'intestino. Noi la stiamo curando con i farmaci classici della medicina occidentale. Abbiamo deciso anche di fare una seduta settimanale di agopuntura per dare un approccio olistico alla patologia e naturalmente per donare il benessere. In effetti da quando Virgin fa l'agopuntura è più vigile, più vivace e questa è una grande soddisfazione. Ciao Spillo, faccio il suo? Sì! Oh, che coraggio! Ma bravissimo! Seguiamo ogni cane tenendo ben presente la sua individualità e la sua storia. Costruiamo dei percorsi educativi nel minimo dettaglio e personalizzati su ogni cane. L'obiettivo finale è quello di riabilitarlo nel miglior tempo possibile e cercargli una nuova vita migliore di quella che faceva prima sicuramente. Cristina, come va la ferita di Dada? È praticamente guarita, si gli ho tolto i punti quindi va bene. Luca, invece come va in socializzazione Dada? Ah, è molto migliorata. Dada, che dici, la mettiamo in adozione? Sì, mettiamola in adozione. Ma ciao! Ma ciao, più bellino, andiamo a casa? In squadra a quattro zampe l'adozione avviene attraverso dei colloqui conoscitivi con le famiglie perché l'unico modo per fare un'adozione di successo è conoscere la famiglia che si ha di fronte unendo le caratteristiche della famiglia alle caratteristiche del cane. Lavoriamo e ci impegniamo per offrire uguali opportunità a tutti i nostri ospiti. Ai più e ai meno fortunati, senza distinzioni. Collaboriamo con realtà pubbliche e private per supportare gli animali in difficoltà. Ma mettiamo a frutto la nostra esperienza di squadra quattro zampe per realizzare anche programmi di educazione e di informazione sui temi del rispetto della natura. Il valore della persona, l'impegno che fa la differenza. Questi sono i principi su cui si fonda la nostra attività. Dare e ricevere amore per essere parte attiva del cambiamento. Questi siamo noi e questa è Fondazione Squadra Quattro Zampe.